Casertana-Cosenza è quasi un match decisivo per la squadra Bruzia, aggrappata alla zona playoff ma contestata in settimana anche ironicamente dai propri tifosi, che hanno così invocato le dimissioni di Mr. De Angelis. Dopo il pari per 1-1 di ieri pomeriggio, la tifoseria comunque avrà ancora qualche motivo per lamentarsi. La Casertana è passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un euro-goal di De Marco realizzato al 34esimo minuto. Il bolide dalla distanza fredda così per Ina per il vantaggio dell'1-0 e la Casertana un minuto dopo potrebbe addirittura rischiare il copia e incolla con un'altra grande conclusione di Ciotola. Lentamente comunque maturata la reazione del Cosenza, pur sapendo di dover rimontare su un terreno senza dubbio ostico e difficile per tutte le squadre che giocano fuori casa. Gli sforzi rosso-blu sono concretizzati al minuto numero 74 con la rete del pari grazie a un'azione corale ben manovrata. Iniziata da Letizia, passata per Corsi che ha rifinito Così Mendicino. Il bomber è abile in scivolata a battere Ginestra per quello che sarà il gol dell'1-1 definitivo. In classifica rimangono appaiate Cosenza e Casertana con vista playoff a quota 44 punti. L'impressione però è che per mantenere queste posizioni bisognerà fare molto molto di più.